ehi Pierino sei arrivato? ehi ciao Pasquetti, buongiorno, buongiorno, ehi che è quella faccia? Pasquetti devo dare una brutta notizia, ma cos'è una brutta notizia? che è successo? Gino, chi è Gino? Davide di papà, è morto, madonna no, mi dispiace, la brutta notizia, mamma mia è così simpata, eh lo so, fa 89 anni, parello guagno uccid, guagno uccid, ma dai com'è morto Pietro, è morto, trombosi, no, si capì, pagino eh, 89, tromba la gola, no, trombo, si capì, io capirò, che non so scegno, ho capito, si, no, no, trombo, vabbè, lascia stare che non ci puoi pensare, che mi stai rimando, a proposta hai buttato la pasta, come mi hai detto ho fatto, non sei preparato a tenuta, eh sì, che è la pasta, dove sta? come lo sta, che è che lo stai trovando, qua c'è solo l'acqua, dentro la pentola, non è normale che deve stare solo l'acqua, eh, io e tu, qualche tu mi dici, io lo faccio alla lettera, e la pasta, dove sta? eh, tu che cosa, eh, tu mi hai chiamato, sì, ti ho chiamato, eh, tu sei detto a me, cos'ho detto, eh, butta la pasta che fra dieci minuti arriva, appunto, eh, io ho buttato la pasta, e dove l'hai buttatela, qua dentro, tu, nella patumiere, come dici, io faccio? luut l'hai buttatela, lo tolhaltena, lo spagnite, come, lo fasci chittà, tru poi Hill portati Kumitaci, no... Alek, sì, no, eh, 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 hizo! chinas ka z in pat examen Chiari 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 Chiari